Demetho Sdemir ha parlato per la prima volta della sua nuova scelta di ruolo. La famosa attrice Demetho Sdemir e Obe Zankok sono stati fotografati dalle telecamere all'uscita di un locale. Il duo ha avuto l'opportunità di andare in vacanza insieme durante l'estate e lui l'ha sfruttata molto bene. Demetho Sdemir ha dichiarato, sono state fatte delle belle vacanze. Ci sono turni ora. Ora ci lasciamo al lavoro. Ho riposato molto bene, ha detto. Le telecamere hanno anche visto che il periodo di riposo della famosa attrice si rifletteva sul suo viso e che era molto serena. Anche Demetho Sdemir è molto soddisfatta dei momenti speciali che vive con il suo amore. Ora è il momento per l'attore di tornare al lavoro. Tutti i fan stanno aspettando che l'attore torni di nuovo ai drammi. Quindi c'è un progetto? Demetho Sdemir ha risposto a questa domanda. Demetho Sdemir, spiegando di aver completato il film Love Tactics, ha affermato che si aspettano che il film uscirà su Netflix a febbraio o marzo. La famosa attrice ha dichiarato che girerà spot pubblicitari. A proposito della serie, l'attrice ha dichiarato, sto leggendo alcuni progetti. Non ho ancora nulla su cui essere d'accordo, ma c'è qualcosa che mi entusiasma, ha detto. L'attrice, che ha anche incantato i suoi fan con i suoi post sui social media, ha fornito un piccolo dettaglio su un nuovo ruolo. Sottolineando che non esiste un ordine per un ruolo, Demetho Sdemir ha affermato di volere un lavoro diverso rispetto al dramma a cui ha preso parte la scorsa stagione. Demetho Sdemir, che ha detto che c'era un personaggio diverso tra gli scenari che ha letto, ha dato un piccolo consiglio dicendo, il personaggio è più vicino all'intrigo. Con questa dichiarazione, la famosa attrice ha affermato che potrebbe dare vita a un personaggio intrigante nel nuovo progetto, che probabilmente verrà accettato. L'attrice ha anche dichiarato espressamente di non essere ancora d'accordo con alcun progetto.